Ben trovati amici di Le Fonti TV con una nuova puntata del nostro Advisory Update, il nostro approfondimento che oggi ruota intorno alla parola investimenti, una parola di cui parliamo sempre spessissimo. Possiamo subito porre una domanda che poi è una delle domande più frequenti che la maggior parte delle persone si pone quando pensa proprio agli investimenti. Come investire i soldi senza rischi? Questa è una bella domanda perché se non ci si affida alle persone giuste, con la giusta competenza, è molto rischioso. È una regola di base che però vale la pena sottolineare. Se ci seguite e se mi seguite è un qualcosa che io mi sento di sottolineare spesso. La prima risposta potrebbe essere quella di affidarsi a una persona che fa questo mestiere, cioè quella del consulente finanziario da tanto tempo. E però c'è anche un'altra domanda. Come riconoscere una figura davvero competente che possa rispondere davvero a tutte le nostre domande? Allora, guardate, mentre pensavo proprio a tutto ciò mi sono imbattuta in un articolo su Corriere Economia, molto chiaro che però mi ha incuriosita. Allora, guardate, guadagnare con i fondi comuni è possibile ed è proprio il titolo che ho voluto dare a questa nostra puntata. Subito accanto, leggete, ma serve un check-up. Mi sono chiesta che cosa si intende per check-up quando si parla proprio di investire e quindi di guadagnare. E allora, cosa ho fatto? Sono arrivata direttamente alla fonte e ho invitato in studio Nicola Scambia, consulente finanziario. Nicola, grazie per essere arrivato subito dopo il mio invito. Peraltro Nicola, insomma, avremo modo di parlarne durante questa puntata, ma è consulente finanziario da 30 anni, quindi insomma mi sembra una figura di riferimento importante a cui chiedere e a cui anche porre gli eventuali dubbi che sono venuti a me stessa per cercare di chiarirli ai nostri telespettatori. Arriviamo poi a questo check-up. Prima però, Nicola, proprio per inquadrare la situazione, mi piacerebbe capire come valuti tu questo 2020 che ci siamo lasciati alle spalle, perché è stato davvero un anno complicato che ha rimesso in discussione un po' tutte le nostre certezze. Certo, il 2020 è stato un anno angosciante, ha cambiato i punti di riferimento e quindi anche mediaticamente ci sono dei messaggi che sembra che i guadagni sono facili in borsa, tutti i giorni dicevo telefonati per investire sul Forex, per fare trading, investire su titoli che sembra che fanno performance incredibili. Questo mi ha fatto nascere un'esigenza e quella di trovare un modo per dare delle informazioni a clienti che hanno investito in fondi, se i loro fondi sono i migliori del mercato. Quindi prima tu guardi e valuti che cosa c'è sul tavolo, insomma, a disposizione, no? Esatto, nel senso che il compito non è tanto una consulenza, il compito è dire il tuo fondo ha dei parametri che non è soltanto la performance, ma parametri di rischio che possono definirlo un fondo interessante, un fondo robusto che può affrontare le prossime oscillazioni dei mercati. Il nostro compito sarà questo, questo lo facciamo tramite un algoritmo proprietario che ruota intorno a banche dati molto evolute che ci danno un risultato molto semplice se questo fondo può affrontare le prossime oscillazioni dei mercati senza particolare volatilità, senza particolare maximo drawdown e un insieme di altre variabili. Infatti affidarsi a un consulente finanziario mi sento di dire è proprio questo, cioè è affidarsi a una persona che ci può indirizzare e guidare in quello che è il continuo sali e sceldi dei mercati finanziari, no? Appunto la parola volatilità che tu hai citato, soprattutto che è stata la protagonista di un anno burrascoso come il 2020 e che comunque ci stiamo trascinando appresso, no? Anche per essere un po' più lungimiranti. Questo è quindi l'algoritmo vostro proprietario, cioè insomma è tuo l'algoritmo, giusto Nicola? L'algoritmo noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto in modo di valutare ogni fondo non soltanto per la performance ma per un insieme di altre variabili come maximo drawdown, beta. Ho voluto portare un grafico per far vedere i fondi che a noi ci piacciono di più. Allora tra poco lo vediamo il grafico, chiedo alla regia però di mostrare ancora se possibile l'articolo che ho visto io su Corriere Economia perché prima di vedere questo grafico che ci porta direttamente a spiegare cos'è il check-up appunto ti chiedo però genericamente di dirmi che cos'è questo check-up. È una tua iniziativa peraltro, no? È proprio personale? Sì, è una mia iniziativa che a chiunque ha sottoscritto dei fondi comuni può inviarmi i dati del fondo non mi interessa conoscere neanche quanto ci ha investito, il suo consulente, la sua banca, ci manda i dati del fondo e noi rispediamo il suo fondo e alcuni fondi se li troviamo perché se il cliente ha dei buoni fondi, non abbiamo niente da dire dei buoni fondi in alternativa. Esatto, infatti lo leggiamo proprio, ottenere una valutazione dei rendimenti dei propri fondi comuni di investimento a confronto con i migliori della categoria di appartenenza. Quindi si parte già proprio da un confronto con quelli migliori che si hanno a disposizione. Naturalmente, insomma, poi si legge anche in questo articolo come ancor più è necessaria questa esigenza di valutazione in un anno complicato come quello. Insomma, l'abbiamo ripetuto più volte ma è importante. A questo punto vediamo nel dettaglio come funziona questo check-up e possiamo far vedere proprio il grafico di cui parlavi poco fa tu. Eccolo qui. Questo è un esempio di grafico che potremmo mandare ai clienti dove ci interessa conoscere per ogni fondo. Lì c'è tutto l'insieme di fondi per una categoria. Il pallino blu ci indica un fondo che ha un buon rendimento e un buon beta. Oppure la performance in rapporto alla volatilità del fondo. Come vede, buona performance e bassissima volatilità. Oppure la performance, che è un dato che mi interessa molto, in rapporto al maximo drawdown. Non mi interessano fondi che fanno mega performance nelle fasi di rialzo e mega ribassi nelle fasi appunto di ribasso. In questo momento ormai tutte le banche offrono gli stessi prodotti. La differenza la può fare un consulente. Un consulente finanziario che si organizza in team. E questo per me è molto importante perché comunque nel mio team ci sono persone abbastanza esterogenea. Non sono tutti consulenti finanziari, sono anche degli amici che ci danno un anno sono pagati per far questo. Sono ex gestori di grosse case di investimento e un insieme di persone che fanno ciò che personalmente mi interessa. E mi interessa dare la possibilità di far conoscere i migliori fondi e poi se la gente li vuole seguire, bene. Certo, beh, viene anche da dire che appunto a proposito di te e del tuo team c'è anche una maggiore empatia, no? Sai, spesso bisogna anche far capire questioni che chi non è avvezzo al mondo della finanza, chi non mastica il linguaggio della finanza, è necessario spiegare nel modo più semplice possibile. Quindi insomma un team credo che sia studiato anche per questo. Allora io ho visitato anche il tuo sito, Nicola, e ho letto di un servizio. Anche qui mi serve per capire di più, insomma, di cosa si tratta. Follow me. Che cosa di cosa si tratta? Perché anche qui credo di aver capito è un servizio di assistenza proprio, no? Dedicato al cliente. Esatto. Allora, la pandemia ci ha abituato a ormai interloquire a livello digitale. A dicembre le nonne di 90 anni hanno fatto gli auguri ai propri nipotini, Whatsapp o su mezzi digitali. quindi il follow me è un servizio in cui è un servizio di assistenza a distanza per fare in modo di conoscere il proprio portafoglio, che potenzialità può avere e propogliene un'alternativa. Diciamo che non mi interessa molto conoscere i portafogli degli altri o le banche degli altri, non mi interessa neanche smontare i portafogli della concorrenza. Noi proponiamo un portafoglio previa, previa un colloquio telefonico, perché è molto importante. L'argomento patrimonio, l'argomento soldi, l'argomento soldi sono molto importanti per quale motivo? Perché sia che siano soldi ereditati, sia che siano soldi che sono stati accumulati in una vita, è importante dedicare il tempo necessario per capire a chi affidare questi lineari. Quindi viene fatta una telefonata e successivamente c'è un contatto telefonico, dopodiché avviene una videochiamata dove ci conosciamo, è giusto che il cliente sappia, mi faccia tutte le domande possibili su come lavoro, come facciamo le scelte, quindi noi saremo disponibili a raccontargli tutto quanto. Allo stesso tempo mi interessa conoscere anche il cliente. Se fossi un medico del vecchio stile, probabilmente metterei a nudo la persona e farei tutte le possibili approfondimenti per conoscere tutto sulla persona. Oggi invece i medici di adesso ci visitano, ci danno una... Sulla base di due parole diciamo, se non lo spesso accade così. Invece no, tu dici la visita deve essere assolutamente dettagliata, soprattutto quando si parla di... Io gli farò domande precise sui suoi obiettivi, sul profilo di rischio, sulle sue conoscenze di strumenti finanziari, esattamente come una Mifid, a quel punto posso permettermi di fargli una proposta di portafoglio. E poi lui si può seguire attraverso anche un account che gli daremo a disposizione nel momento in cui volesse anche un account. Esatto, quindi diciamo che l'assistenza poi è continua, Nicola, perché poi tu hai raccontato un po' gli step di come avviene, una prima telefonata conoscitiva, chiaramente con tutte le domande anche che arrivano da chi eventualmente vuole affidarsi a te e poi però l'assistenza continua, no? C'è sempre un monitoraggio continuo di quello, anzi facciamo così, per essere un buon consulente finanziario bisogna fare questo, io ragiono al contrario perché immaginiamoci, facciamo finta che io voglia affidarmi a te in questo momento e che sia seduta al tavolo con te proprio per chiederti che garanzie in qualche modo avrei da un servizio di consulenza finanziaria. Cioè io non ho nessuna fretta nel momento in cui mi hai contattato, non ho nessuna fretta di proporti o di fare chissà quali trading, sono convinto che ciò che ti proporrò tu lo potrai apprezzare. Molti clienti, molti consulenti della concorrenza propongono di diversificare per strumenti finanziari, credo che sia molto interessante anche diversificare il consulente finanziario, quindi dividere il patrimonio per esempio in tre e affidarne ciascuna a un consulente diverso può essere una ricchezza e avere la possibilità di abbassare il rischio complessivo di portafoglio. Ti faccio un'altra domanda Nicola che poi si collega a un'altra curiosità che ho, mi faccio un po' portavoce di quelle che sono anche le domande più frequenti, che raccolgo anche durante le trasmissioni sulle fonti tv e che caratterizzano un po' questo periodo di fragilità che abbiamo vissuto. Le fragilità ci sono sempre però chiaramente nel 2020 e ancora adesso si sono concentrate tutte insieme e spesso c'è proprio paura, ma io come faccio ad affidare i miei risparmi a una persona che è vero, non conosco, poi posso conoscere però che inizialmente non conosco. Ti chiedo subito dei consigli che si possono dare ai nostri telespettatori. La prima cosa è conoscere il consulente finanziario, fare tutte le domande più imbarazzanti, come si informa, la sua formazione, in che cosa è specializzato, io non credo ai tutologi. Io faccio solo e soprattutto asset allocation, cerco di assistere i clienti per avere i migliori prodotti finanziari che esistono sul mercato. Appunto perché ormai in una banca si può comprare di tutto, non è come vent'anni fa o trent'anni fa che c'erano quattro fondi e quattro titoli. Quindi fare tutte le domande possibili affinché col consulente si sa tutto di questo consulente, allo stesso modo rispondere a tutte le domande del consulente, perché un consulente deve sapere un attimino la personalità anche del cliente per poter investire nel migliore dei modi. Certo, assolutamente sì. E quali sono i criteri? Cioè per esempio io mi sono sentita subito di dire che tu lavori da trent'anni, ma una cosa si può verificare, insomma qual è stata la tua attività in tutti questi anni. Quindi sicuramente un professionista di lungo corso già può dare, te la pongo sempre come domanda, maggiore garanzia di competenza e anche di insomma, come dire, di esperienza proprio personale, bagaglio personale. Ecco, sembra un retorico ma è così. Il mio bagaglio è che in trent'anni ho fatto sempre questo mestiere, soprattutto su fondi, su titoli, su gestioni patrimoniali, proporre gestioni patrimoniali interessanti. Poi ho lavorato sempre in banche che mi hanno permesso di non avere vincoli e condizionamenti. Anche la banca in cui opera adesso, che non è sicuramente una delle ultime, ti permette di offrire al cliente pressoché tutto quanto, senza condizionamenti. E questa è la prima cosa più importante. Quindi fare una domanda, fare delle domande a consulenti per sapere se può comprare in qualsiasi mercato, qualsiasi fondo, sono domande che sono obbligatorie da fare al consulente. Certo, certo. Ma la cosa più importante è sapere come costruisce un portafoglio. Perché non tutti sono organizzati. Se ti facessi proprio, che poi è quello che mi stavi già dicendo tu, se partissi dalla domanda inversa, contraria, cioè come riconoscere subito un consulente che non è propriamente adatto a gestire i nostri risparmi? Ci sono dei campanelli d'allarme? Così, proprio se ti viene in mente qualcosa di particolare. Certo. Se la proposta viene fatta in modo affrettato, senza conoscere assolutamente che tipo di obiettivi il cliente si prefigge, questo ci starebbe abbastanza lontano. Se vengono proposti soltanto prodotti della casa, è un altro elemento, mi interesserebbe conoscere come si informa, cosa studia, cosa propone. Perché un portafoglio è una cosa abbastanza complessa, non c'è un asset allocation perfetto che vale per sempre. La cosa più importante è se nel servizio check-up noi facciamo un piccolo controllo, nel senso il check-up quando viene fatto, viene fatto quando stai bene. Ma se sai che c'è un parametro, magari il colesterolo è un pochino alto, devi informarti anche degli altri. Quindi noi diamo col check-up un'informazione sui singoli fondi, se all'interno della stessa categoria sono dei buoni fondi, mantenendo lo stesso profilo di rischio e addirittura riducendo. Con il servizio ForoMe cerchiamo di fare una cosa più articolata, però a quel punto io devo essere autorizzato a fare tutte le domande per capire i suoi obiettivi e a quel punto possiamo fare il miglior portafoglio. E non c'è nessuna fretta perché ciò che ci importa non è il portafoglio, è la persona. Certo, beh, anche perché è questa, allora, gli amici che mi seguono lo sanno, e lo dico sempre, anche se non sono una consulente finanziaria, però chiaramente mi informo attraverso figure come quella di Nicola Scambia, devono essere quanto più personalizzate ovviamente le consulenze. Sai perché dico questo? Perché mi ricollego un po' al discorso di come la nostra vita è cambiata nel 2020, no? Stando più spesso in casa abbiamo tutti usato di più internet e tu lo sai meglio di me arrivano un sacco di messaggi rispetto a affidati a noi per i tuoi soldi, affidaci i tuoi soldi, promettendo anche dei guadagni spesso che insomma mettono la colina in bocca, ma che sappiamo essere falsi. Cioè la regola di base è che nessuno regala soldi, quindi attenzione non farsi ingannare da messaggi che arrivano continuamente attraverso gli smartphone, computer, no? Questo lo chiedo, ripeto, ancora una volta a te, ma è qualcosa che io stessa mi sento di dire, no? Io come cliente mi rivolgerei esclusivamente a un consulente abilitato all'offerta fuori sete che lavora in una banca, perché non può fare quello che vuole, già controllato dalla banca e dagli organi di vigilanza competenti, quindi rivolgersi a un consulente bancario è la cosa migliore. E che non sia dipendente però, perché comunque un dipendente, a differenza del consulente, non ha le stesse motivazioni per far bene col cliente. Tende magari a proporre dei prodotti che sono un po' più standardizzati. Non ha la motivazione, quindi un consulente è molto legato agli interessi e agli obiettivi del cliente. Quindi un consulente, non so, non possiamo sapere in quanto tempo raggiungiamo gli obiettivi, ma siamo sicuri che gli raggiungiamo gli obiettivi del cliente. Allora, vediamo se ho capito bene, no? Ritornando proprio, possiamo, noi lo vediamo sempre in studio, ma lo possiamo far vedere ancora ai nostri telespettatori. Ecco, visto che il titolo è questo, guadagnare con i fondi comuni è possibile, io l'ho messo come punto di domanda, ma serve un check-up? Quindi sì, tu risponderesti, però attraverso prima un piano di consulenza e di studio ben definito. Esatto, perché comunque quando facciamo, non so, un'ottorazione dentale, come fai a sapere se questa attorazione dentale è stata fatta bene? Ti devi rivolgere un altro professionista che è un altro dentista. Quindi come fai a sapere se i fondi che ti hanno proposto sono veramente interessanti e ben gestiti? Rivolgerti a un consulente finanziario abilitato all'offerta di sede dove la maggior parte dei consulenti vivono e propongono fondi ben gestiti. E peraltro appunto check-up e follow me, insomma si può leggere tutto dal sito e sul sito di Nicola Scambia, sono più che altro un invito a conoscersi, no? Più che, cioè poi diventa ovviamente una consulenza finanziaria, però prima è un invito proprio a conoscere la persona. Come la fotografia digitale. Oggi noi possiamo scattare delle foto, guardare se ci piacciono, se ci piacciono le stampiamo. Quindi se vuoi il servizio funziona in questo modo. Io questi inviti a conoscerci sono ragionevolmente convinto che un cliente può apprezzare ciò che proprio noi. Ecco, ribadiamo ancora Nicola, se sei d'accordo, come far ad aderire anche al tuo check-up, nel senso che ricordo una tua iniziativa personale. E ti posso chiedere anche quando ti è venuta questa idea, ma credo che sia stato un po' il risultato di tutti gli anni, no? In cui tu hai dedicato a questa professione. Ma sotto pandemia, diciamo che ho sentito l'esigenza proprio per questo motivo, che comunque in giro si sentono un sacco di offerte che assolutamente sono ingannevoli. Quindi facciamo chiarezza, vediamo che investimento hai, che cosa vuoi fare. E io cercherò di dirti che sono un investimento che nell'ambito degli stessi profili di rischio può essere interessante. Vabbè, ti chiedo di dire ai nostri telespettatori, rivolgendo il tuo proprio a loro, come fare a mettersi in contatto con te, se vogliono approfondire tutti questi temi e capirne di più, solo capirne, insomma. Ho via WhatsApp, ho via email, basta inviarmi il contatto, dopodiché possiamo parlarci in 30 minuti con una videoconferenza e successivamente riceverai una proposta la migliore possibile, sia che sia un fondo, sia che sia una proposta di asset allocation. Esatto. Quindi insomma tutti possono ricevere informazioni, guarda, stiamo guardando anche il tuo sito, grazie alla regia che prontamente l'ha messo, insomma, quindi è facilissimo. C'è un qualcos'altro che ti senti di dire a chi ci segue? Perché guarda, queste domande che io mi sono appuntata oggi, che ho pensato di rivolgere a te, sono effettivamente domande che i nostri amici ci rivolgono sempre. E quindi insomma mi piaceva creare uno spazio di approfondimento che potesse quantomeno schiarire un po' le idee. Certo, allora non affidare mai soldi in contanti a nessuno ed essere cliente di soggetti vigilati. Le banche sono importanti per il nostro paese. Quindi comunque è meglio lavorare con una banca, la mia banca è una, credo, delle banche digitali più interessanti, ma in ogni caso credo soggetti vigilati e non affidare soldi in contanti ai clienti. Esatto, guarda io per esempio mi ero scritta, no, io ho iniziato questa puntata dicendo che la domanda più frequente che la maggior parte delle persone si pone quando vuole in qualche modo aumentare la redditività dei propri risparmi è come investire i soldi senza rischi. Io per esempio mi ero segnata valori fondamentali, quindi valori che stanno alla base di una professione come questa, proprio per evitare di incorrere in persone, barra messaggi ingannevoli, comunicazione, è importantissima la comunicazione. Infatti non a caso ho citato anche la tua professione barra hobby, passione della scrittura, non so quale di questi primi nomi possiamo mettere. Esperienza, e qui ci ricolleghiamo, e poi la fiducia, che credo sia un po' il risultato finale del mix di questi elementi che abbiamo messo sul tavolo. Appunto, pensa quanto è bello con For Me. Tu hai un consulente, non hai nessun rischio, perché è tutta una simulazione, e valuti esattamente se può essere uno dei tuoi consulenti in futuro su una parte o su tutto il patrimonio. Direi che è una cosa molto interessante, senza rischi. Assolutamente sì. E allora ancora rivediamo questo articolo che ha attirato la mia attenzione, che è apparso su Corriere Economia, guadagnare con i fondi comuni è possibile. Noi l'abbiamo appositamente messo come domanda. come titolo della nostra trasmissione. Sì, è possibile, ma serve un check-up, attenzione, perché tutto, almeno così ci insegnano, tutto può essere possibile nella vita. E però senza brancolare nel buio, no? Bisogna avere dei punti di riferimento. Esatto, e va fatto adesso. Adesso che stiamo bene, perché i mercati sono sui massimi. Ecco, e questo, bravissimo, come conclusione può essere quella giusta, Nicola, perché la perplessità magari è quella, no? Per cui dico, ma come, in un momento in cui c'è precarietà, in cui non sappiamo che cosa succederà, cosa dobbiamo fare? No, invece il momento giusto. È il momento ideale. Con i mercati adesso, sui massimi, farsi un check-up per sapere se il proprio portafoglio può affrontare le prossime oscillazioni dei mercati. Scusami, mi avrebbe da dire, visto che tu hai fatto il parallelo con un medico, prevenire è meglio che curare. Esatto. Quindi vale anche per i mercati. Soprattutto se stai bene adesso. Quando si parla di check-up. E guadagni bene. Esatto, e se no si interviene sempre troppo tardi, no? Troppo troppo tardi. Va bene, Nicola. Allora, io naturalmente ti ringrazio. Io ringrazio voi. L'invito è quello che facciamo sempre, insomma, senza nessun tipo di obbligo, però invito a informarsi, perché poi l'informazione, soprattutto in un momento in cui siamo bombardati di messaggi, informarsi su un qualcosa che magari ci può interessare e vale la pena. E poi, va bene, Nicola, come vedete, io l'ho chiamato, è arrivato in studio, credo che sia a disposizione per eventuali... Il digitale ci permette di essere in contatto, anche se si è distanti. Poi so che hai tantissimi progetti nella tua testa che piano piano prenderanno forma, vero? Ma riguardano sempre il settore finanziario. Sì, 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 certo, nel tuo... No, con un sorriso dico, quindi, prima o poi leggerò di te da qualche altra parte, vero? Al tempo. Come è successo in questi giorni. Esatto. Va bene, grazie Nicola Scambia, grazie al team che so anche essere composto di donne. Sì, ci sono tre donne molto in gamba che ci aiutano. Perché la finanza sembra sempre qualcosa di prettamente maschile, invece... No, le donne sono più brave. No, questo non lo so, però, insomma, però non è una componente così, diciamo, limitata come si può pensare. No, va bene, a parte questa nota di colore, grazie mille Nicola Scambia per aver chiarito questi punti fondamentali e alla prossima volta. Grazie a tutti. E grazie a tutti voi per averci seguiti, naturalmente vi invito a rimanere sulle fonti tv e a seguire le nostre trasmissioni. Buona giornata, buon proseguimento sulle fonti tv.